Un'oasi di pace in un angolo fiorito alla periferia di Lodi. È il tulipaneto che ha preso forma alle spalle del cimitero maggiore della città per iniziativa di un giovane intraprendente appassionato di fiori ed essenze arbore. Questo giardino multicolore, ormai la meta preferita di tanti lodigiani e non solo, che amano trascorrere qualche ora stretto contatto con ciò che ci vi è di più bello nel regno vegetale, i fiori. Ma come è nata questa idea, tanto cara da alcuni popoli del nord Europa? Allora, l'idea è nata perché ho trovato un pezzo di terra vicino al mio frutteto, non avevo abbastanza soldi per comprare la terra e piantare un altro frutteto, quindi ho cercato una cultura che fosse un po' più veloce, perché mettere giù le piante da frutto è un grosso investimento e ci vogliono tre anni prima di iniziare a vendere la frutta. Invece i tulipani mi sono sempre piaciuti, è una cultura comunque più veloce e quindi ho deciso di mettere questi tre anni fa. Che cosa possono trovare qui i visitatori? Allora, i visitatori, beh prima di tutto è super emozionante il colpo d'occhio perché sono 300.000 tulipani nel campo, li faccio entrare, gli spiego come raccoglierli, non c'è bisogno di portare niente, bastano le mani tranquillamente, gli do il secchiello, gli spiego appunto come raccogliere, come è disposto il campo, le varietà e possono fare una passeggiata, ci sono i tavoli, le sedie, passare un bel pomeriggio ecco. Tenendo fede ad una regola ben precisa dal produttore al consumatore. Fatto sì, beh questo è un po' il motto del Ceraseto, addirittura con l'autoraccolta perché essendo partito appunto dalla frutta e la verdura a chilometro zero vendendo solo le cose che coltivavo nel mio campo, con anche i limiti del caso perché non è che ho una quantità infinita di prodotti, non è che vado tutti i giorni all'ortomercato come i frutti vendoli, io vendo proprio in base alla stagione, sono in balia del tempo, del clima e apro in base alla maturazione della mia frutta, faccio così anche con i fiori, è un'autoraccolta di fiori. Per andare al Ceraseto, poco distante da questa splendida osi fiorita, bisogna attendere ancora qualche settimana? Sì, perché inizio le prime produzioni ad averle a fine maggio, le ciliegie, le albicocche, i lamponi maturano per primi, poi ci saranno le insalate, i cipollotti diciamo come prima verdura, dopodiché andiamo avanti con le mori, i mirtilli, le pesche, le susine, albicocche ce ne saranno ancora e poi tutta la verdura che io riesco a coltivare qua con il nostro clima, compresi i meloni e le angurie. E ad ottobre cosa succede? L'ottobre ci rispostiamo nel campo di tulipani perché semino le zucche dopo la sfioritura dei tulipani e saranno pronte appunto le zucche sia da mangiare che di Halloween e anche quelle ornamentali. Ho le zucche davvero di tutti i tipi, anche zucche qualitativamente super diciamo che non si trovano al mercato solitamente, tipo la Cappello del Prete o la Vanity che sono zucche molto ricercate ma che di solito non si coltivano perché producono poco ma io ce le ho, ecco, da appassionato. Sembra proprio un sogno diventato realtà. Ma assolutamente, io diciamo che ce l'ho sempre avuta nel sangue, all'elementare in terza elementare dicevo già che volevo lavorare con le piante, dicevo proprio che volevo fare il fiorista, poi ho trovato la mia strada facendo il perito agrario, facendo agrarie qua a Codogno, Altosi e mi sono specializzato più sulle pente da frutto per differenziarmi un attimino nel mio luogo di origine perché la mia azienda è molto piccola, adesso sono arrivato a 5 ettari, mi sono partito da un ettaro e mezzo e ha senso la mia azienda proprio perché sono l'unico che fa frutta e verdura o comunque frutta praticamente, siamo in pochissimi e essendo una mosca bianca diciamo nel territorio riesco a vendere direttamente. Avere un ettaro e mezzo invece e dover conferire il prodotto all'ortomercato non avrebbe senso perché non mi reggerei ecco in piedi economicamente. Soddisfatto di tutto questo? Ma molto, mi ritengo molto fortunato sicuramente, ho molto seguito, le iniziative piacciono sempre, vengono davvero migliaia di persone con i prodotti di punta come le ciliegie e poi anche i tulipani ma in realtà anche al campo di zucche e non posso che essere contento. E allora non resta altro da fare che prendersi qualche ora per sé immergendosi fra i tulipani che attendono solo di essere colti e valorizzati. Grazie. Grazie.